A MacFruit Digital saremo presente con Goccia Verde. Goccia Verde non è nient'altro che una certificazione per le aziende agricole che riusciranno a dimostrare un miglior utilizzo dell'acqua utilizzandola meglio, raccontando e quindi riuscendo a dimostrare all'Europa e al consumatore che l'irrigazione e l'agricoltura è un'opportunità e non un consumo. Lo faremo attraverso InReframe, un InReframe innovativo, una piattaforma che andrà incontro a quelle esigenze europee di sostenibilità delle risorse ma soprattutto che servirà a garantire certezza di sostenibilità del prodotto che utilizziamo. Quindi servirà all'ambiente, servirà al consumatore e servirà all'agricoltore. Tutto questo ve lo vogliamo raccontare con un viaggio che parte dal Po dove preleviamo la nostra acqua e arrivare fino in Romagna. Lo facciamo con tutti i nostri agricoltori, con i nostri partner e con tutti i tecnici che seguono Gocia Verde. Per noi di ambi la sostenibilità rimane un obiettivo importante. È importante per le nostre aziende agricole per raggiungere quella sostenibilità economica necessaria per continuare a fare impresa, dimostrando che l'agricoltura non consuma l'acqua ma la utilizza a produrre cibo. Grazie.